Amici e amanti del vino, bentornati! Oggi vogliamo parlare degli aromi del vino. Ciò che determina il profumo di un vino è legato ad una serie di fattori. Andiamo a vedere quali subito dopo la sigla. Allora, per prima cosa dobbiamo considerare che come un europeo è diverso da un cinese, un sudamericano è diverso da un asiatico. Anche ogni vitigno è differente, ha proprio dei profumi, degli aromi cosiddetti varietali che ne determinano il fattore olfattivo. Ogni vitigno ha proprio le sue caratteristiche varietali che lo rendono unico. Uno chardonnay sarà diverso da un verdicchio che a sua volta è diverso da una falanghina. Quindi i cosiddetti aromi primari sono quelli legati proprio alla varietà che viene utilizzata per vinificare. In secondo luogo bisogna considerare quelli che sono gli aromi secondari. Gli aromi legati ai lieviti che si sono sviluppati e hanno preso il sopravvento durante le varie fasi della fermentazione e hanno anche dato un quid, un qualcosa in più a quel vino. Cosiddetti sentori particolari, quelli che sentiamo quando andiamo a sbicchierare, sentori di banana, sentori di sottobosco, sono spesso dati dal metabolismo fermentativo di un lievito che ha quindi aggiunto qualcosa nella sua attività metabolica anche a livello di odori. Il terzo aspetto da considerare è poi quello degli aromi cosiddetti terziari che sono legati all'evoluzione del vino in bottiglia o in legno prima. Il vino è una materia viva che quindi nel tempo evolve, cambia. Questo determina ancora dei profumi differenti. Non abbiamo considerato, ma bisogna sempre pensare, che c'è sempre anche l'aspetto territoriale. Una zona del mondo ha delle caratteristiche pedoclimatiche, territoriali e anche di esposizione diversa alla luce, caratteristiche del suolo differenti, che a loro volta intervengono sui profumi stessi. Ma questi diciamo che non rientrano nei primari, nei secondari o nei terziari. Io spero di essere stato chiaro, di avervi dato ulteriori elementi su cui riflettere e che ci possano portare ogni volta che versiamo un vino nel bicchiere a ragionare su tutto quello che c'è dietro, ciò che poi andiamo a degustare. Profumi legati al terroir, profumi legati alla varietà stessa che viene utilizzata, profumi legati ai lieviti che vengono scelti dall'azienda oppure che prendono il sopravvento autoctoni, territoriali, dove il vitigno è cresciuto e dove il vino è stato prodotto, che intervengono nella fermentazione aggiungendo qualcosa. Oltre chiaramente a tutti i passaggi nell'affinamento e nell'invecchiamento che l'azienda sceglie di fare per dare qualcosa in più al proprio prodotto. Io sono Raffaello De Crescenzo, il vostro Cultura Agroalimentare, e cerco con questi video di farvi conoscere il mondo del vino, ma anche il mondo dell'analisi sensoriale. Ti invito a lasciare il tuo like e a iscriverti al canale quando non lo avessi già fatto. In descrizione trovi anche gli altri social sui quali puoi seguirmi. Il vino è un viaggio sensoriale che finisce soltanto quando decidiamo di non bere più. Alla prossima puntata!